La trice del Drago Jesolano è arrivata a seconda Alice D'Amato con terza Angela Andreoli, quindi un podio tutto italiano e quarta Chiara Barzasi, ma naturalmente mancavano le stelle americane che ci sono invece in questa quindicesima edizione. Sì, intanto ha iniziato Tiana Sumana-Sechera alla trave, smezzato, unito, teso, eseguito piuttosto bene, ribaltata senza invece questa con un bello sbilanciamento e sicuramente non prenderà il collegamento dei tre salti, parte a terra, un buon ritmo. A giambe cambio e a giambe cambio mezzo giro, intanto il boato era per il volteggio dell'Andrade a volteggio. Sison e Salto Cusacco, serie artistica semplice semplice. Giro in passè, parte laterale per la ginnasta americana, si prepara per l'uscita, smezzato, unito e doppio carpio. Allora... Allora... Allora...